Ciao a tutti, oggi girerò il tutorial di questi orecchini che ho deciso di chiamare Live, che vuol dire viva. I materiali per realizzare questi orecchini che vedete sono un po' insoliti, sono appunto queste daghe grandi, piccole e le gocce, compresi gli ovali, sono disponibili sul sito Sfera Colori di Paola Belardi. I perni invece li avevo presi tempo fa e questi orecchini sono nati in estate, ma noi adesso li realizzeremo in una versione con i colori autunnali. Ovviamente spero che vi piacciano, vi avviso che comunque la realizzazione di questi orecchini è meno complicata di quello che sembra guardando il tutorial. Vabbè, qui dal tutorial sembra sempre tutto un po' più complesso, poi nel farli non si trovano grosse difficoltà. Vi consiglio di fare una cosa che non ho spiegato dopo, ho dimenticato di dire dopo, cioè quando inserite questa che è la prima infilata appunto di foglie e di queste daghe piccole con un solo foro, tentate di mettere le foglie, queste bay leaf, tutte con la puntina, vedete, rivolta da una stessa parte, solo perché così l'orecchino effettivamente viene più ordinato. Va bene, adesso presenterò i materiali necessari, così poi possiamo iniziare a realizzare l'orecchino live. A tra poco! Per realizzare gli orecchini vi servirà innanzitutto un ago numero 12 della Pony, poi il filo di nylon monofilamento da 0,20 mm, poi ci serviranno due perni, io ho utilizzato questi che sono dei perni in acciaio con la finitura dorata che hanno incastonato uno chaton della preziosa da 8 mm nel colore light peach, presi dal sito Semplici Bijou. Invece questo materiale che vedete l'ho preso dal sito Sfera Colori. Innanzitutto ci serviranno due ovali, questi sono degli ovali in vetro che praticamente sono nel color peridot, poi ci serviranno 12 daghe, queste sono delle daghe piccole monoforo che misurano 3x11 mm e sono nel colore curry, poi ci serviranno 12 foglie, queste in particolare sono le bay leaf beads, quindi foglie da loro perché bay vuol dire a loro e sono nel color ginger, poi ci serviranno 22 daghe doppio foro, queste sono nel colore suedit gold fern e mi raccomando se la bustina delle daghe che acquistate è da 10 pezzi, vi serviranno purtroppo tre bustine, comunque poi vi serviranno anche due gem duo che sono queste qui che vedete e appunto solo due proprio di numero e possibilmente nel colore simile alle daghe, le mie sono mint chocolate e poi ci serviranno le tre misure di rocai e quindi le 8.0 in questo caso sono Duracote Galvanized Champagne, poi le 11.0 che in questo caso sono le Duracote Galvanized Muscat e le 15.0 che sono le matted Duracote Galvanized Gold che è un colore davvero bello che vi consiglio ed è anche molto resistente, quindi ci vediamo tra poco per il procedimento Ecco, per iniziare dovremo mettere sull'ago una daga di queste monoforo una 8.0, una foglia, una bay leaf e di nuovo una 8.0 Ora questo passaggio lo dovremo ripetere per 6 volte ci rivediamo tra poco con l'infilata iniziale che poi chiuderemo a cerchio a tra poco Ecco, questa vedete appunto è la sequenza iniziale in cui ci sono 6 daga in monoforo e 6 bay leaf beads che sono alternate ma anche intervallate da 12.8.0 Ecco, una volta che avrete fatto questo, che avremo fatto questo dobbiamo chiudere a cerchio, nascondere il capocorto del filo dopo che avremo fatto ovviamente due nodi con poi il nostro filo, diciamo, col quale dobbiamo lavorare ci spostiamo un po' nelle perline per allontanarci dal nudo e siamo pronti a iniziare ci rivediamo tra pochissimo Ecco, una volta chiusa a cerchio dobbiamo uscire, portarci ad uscire da una 8.0 possibilmente quella che precede la daga monoforo mettiamo sull'ago una 11.0, una daga doppio foro nel foro più alto, più esterno, diciamo e poi un'altra 11.0 e ci andiamo a inserire nella 8.0 successiva quella dalla quale stiamo uscendo e appunto poi dobbiamo risalire nella 11.0 ma intanto passiamo nella 8.0 solo nella 8.0 possibilmente ecco qua poi tiriamo il filo e ci troveremo così ecco adesso dobbiamo risalire nella 11.0 che è questa qui che ci troviamo diciamo in direzione dal basso verso l'alto tiriamo il filo e ci troviamo così ora per i passaggi successivi noi non andremo più a mettere la prima 11.0 ma metteremo solo diciamo una 11.0 quindi inseriremo una daga doppio foro una 11.0 così e ci andremo a inserire nella 8.0 successiva e tiriamo il filo ovviamente e andiamo sempre a risalire nella 11.0 che abbiamo appunto inserito e dal basso verso l'alto tiriamo il filo e ci troveremo così in questo modo andremo a posizionare vedete tutte le daghe qui intorno però quando arriviamo in questo punto ci rivediamo perché invece della daga dobbiamo mettere la gem duo perché questa sarà la gem duo che poi ci consentirà di fare il cappietto che altrimenti sarebbe stato scomodo con la daga quindi completate il giro solo fino qui fino all'ultima mini daga quella piccolina quella color carry e poi ci rivediamo per inserire la gem duo nell'ultimissimo passaggio come vi dicevo abbiamo appunto inserito 11 vedete daghe doppio foro queste qui nel color fern nel color felce ora cosa facciamo abbiamo vedete qui che usciamo dalla 11.0 quella che si trova in corrispondenza dalle 8.0 e qui ci dobbiamo ricongiungere con l'altra daga però invece di inserire la daga inseriamo la gem duo come vi dicevo perché ci serve che abbia il foro diciamo più basso per poter poi fare il cappietto ora ci andiamo a inserire in questo modo nella gem duo con la parte bombata alla fine verso di noi e andiamo a inserirci nella 11.0 che troviamo dall'altro lato quella con cui appunto dobbiamo ricongiungerci e quindi praticamente tiriamo il filo sempre in questi passaggi dobbiamo fare attenzione a non impigliarci nelle varie daghe che insomma ci sono poi andiamo a inserirci appunto nella 8.0 sottostante tiriamo il filo e appunto poi risaliamo nella stessa 11.0 ecco qua andiamo dal basso verso l'alto tiriamo il filo senza impigliarci nelle daghe e ci ritroveremo diciamo verso l'alto con l'ago e il filo rivolti verso l'alto ora passiamo anche nella daga che ci troviamo subito a sinistra tiriamo il filo e ci ritroveremo così a questo punto non dobbiamo far altro che inserire una 11.0 tra una daga e l'altra sempre nel foro più esterno ecco qui per adesso ovviamente tiriamo il filo e la 11.0 si posizionerà così prendiamo un'altra 11.0 ci inseriamo nella daga successiva così quindi inseriamo una 11.0 tra tutte le daga compresa la gem duo e ci ritroveremo ad uscire poi da una 11.0 a tra poco ecco allora terminato questo questo giro ci ritroveremo così ci portiamo come vi dicevo ad uscire da una 11.0 mettiamo sull'ago 3.15.0 questa volta e ci andiamo a inserire nella 11.0 successiva ecco qua tiriamo il filo si formeranno degli archetti di 3.15.0 ve lo faccio rivedere un'altra volta ma diciamo è semplice ci andiamo semplicemente a inserire nella 11.0 successiva così si formeranno gli archetti di 3.15.0 quindi terminiamo il giro e ci rivediamo tra un po' ecco terminiamo insieme il giro vedete queste sono le ultime 3 rocaille 3.15.0 e ci andiamo a inserire nella rocaille 11.0 che è quella dalla quale eravamo partiti tiriamo il filo facciamo quindi l'ultimo archetto ovviamente in questi casi dobbiamo sempre fare attenzione a non impigliarci nelle daghe a non finire sotto tiriamo il filo e poi attraversiamo anche le prime due rocaille dell'archetto successivo ecco qua li troveremo così una volta attraversate le prime due rocaille dobbiamo prendere le 11.0 e mettere una 11.0 sul lago e andarci a inserire nella rocaille centrale dell'archetto successivo ecco qua tiriamo il filo ma non troppo perché tra un po' si avvicina il momento in cui dobbiamo inserire l'ovale ovviamente noi stiamo costruendo l'incastonatura per l'ovale mettiamo un'altra 11.0 e ci inseriamo nella rocaille centrale dell'archetto di tre successivo quindi nella seconda facciamo attenzione a non fare impigliare il filo tiriamo e proseguiamo così quindi andandoci a infilare nella rocaille centrale degli archetti e intervallando la 11.0 vedete in questo caso l'archetto ovviamente va giù noi dobbiamo tirarlo su e inserirci qui nella rocaille centrale è semplice non stringiamo troppo perché adesso nel passaggio successivo inseriamo l'ovale finalmente a tra poco ovviamente nel momento in cui andiamo a concludere questo giro dobbiamo fare attenzione perché dobbiamo ricongiungerci con la rocaille 15.0 dalla quale eravamo partiti quindi mettiamo sempre una rocaille 11.0 sul lago e ci andiamo a inserire vedete questo è l'ultimo archetto e ci andiamo a inserire nella rocaille 15.0 dalla quale eravamo partiti che poi è seguita dalla 11 appunto che è la prima inserita in questo giro quindi così abbiamo concluso il nostro giro vedete qui vi sembrerà tutto un po' strano ma adesso proprio perché non abbiamo stretto tanto prendiamo finalmente l'ovale e dobbiamo inserirci ovviamente tenendolo in posizione in corrispondenza della gem duo e diciamo in posizione verticale quindi intanto lo andiamo a inserire e incastrare qui poi lo posizioniamo per bene ecco qua e possiamo finalmente girare un po' il lavoro vedete poi tirando il filo si andrà a sistemare però dobbiamo metterlo verticalmente allineato con la gem duo e con la daga sotto infatti se giriamo vediamo che in effetti non è allineato e dobbiamo sistemarlo meglio giriamo in questo modo ecco vedete adesso inizia a prendere forma questo è sempre lo svantaggio il problema degli ovali infatti mentre stringiamo l'incastonatura dobbiamo tenerlo d'occhio come sempre vedete come ci verremo a trovare ok e giriamo e dobbiamo tirare meglio il filo e quindi in maniera tale da distendere la nostra incastonatura e dobbiamo andare a ripassare tutte diciamo in tutte le perline che abbiamo attraversato proprio nel giro precedente quindi nella gem duo e nella 11 scusate nella 15 0 e nella 11 dobbiamo tirare il filo sempre facendo attenzione a non farci a non impigliarci nelle daghe nelle varie perline che ci sono continuiamo a ripassare quest'ultimo giro quindi 15 0 11 0 come le troviamo sul nostro percorso ecco qui per esempio si è impigliata nella daga facciamo molta attenzione a questo perché altrimenti poi ci troviamo in difficoltà ora mentre ripassiamo in questo giro almeno una volta una volta e mezza teniamo d'occhio l'ovale perché potrebbe spostarsi controlliamo che sia sempre in posizione con le due foglie vedete con i due bay leaf adesso è un po' storto ma in effetti mentre noi stringiamo l'incastonatura potrebbe ruotare un pochino quindi tentiamo di posizionarlo bene dall'inizio ma poi controlliamolo ok io adesso lo sistemo meglio e stringo l'incastonatura e ci rivediamo tra un po' ecco vedete questo è il punto l'ovale incastonato come si presenta dal davanti mentre sul retro ci ritroviamo così ad uscire adesso dopo aver effettuato l'operazione di ripasso vedete l'incastonatura è ben distesa e usciamo da una 15 0 perché dobbiamo portarci adesso ad uscire dal foro vedete più centrale della daga come faremo uscendo dalla 15 ci portiamo vedete a risalire insomma in direzione della daga quindi attraversiamo la 15 0 anche sottostante diciamo questa qui che faceva parte dell'archetto di 3 poi attraversiamo la 11 0 il foro basso della daga e poi ovviamente ci porteremo in questo modo nel foro diciamo centrale della stessa daga dalla quale stiamo uscendo così però facciamo diciamo un'inversione di direzione ecco ci troviamo adesso ad uscire da questo foro e dobbiamo inserire le 8 0 quindi tra una daga e l'altra inseriamo le 8 0 ma nel momento in cui arriviamo alla gem duo ci sarà una piccola variazione da seguire quindi intanto inseriamo le 8 0 tra una daga e l'altra ecco qua un po' di pazienza facendo sempre attenzione a non impigliarci questo ovviamente darà maggiore stabilità alle daga che altrimenti si muoverebbero ecco una volta arrivati qui invece di aggiungere solo la 8 0 metteremo una 8 0 e una 11 0 eccole qua e ci inseriamo nel foro alto della gem duo quindi poi ovviamente simmetricamente metteremo prima la 11 0 e poi la 8 0 e scendiamo giù e andiamo nel foro della daga che troviamo accanto quindi in questo punto dovremo mettere una 8 0 e una 11 e qui una 11 e una 8 0 poi proseguiamo sempre con le 8 0 come abbiamo fatto dall'altra parte ci rivediamo tra un po' una volta terminato l'inserimento delle 8 0 ci portiamo ad uscire da una 8 0 che si trova in corrispondenza della foglia e per maggiore stabilità faremo questo passaggio cioè metteremo sul lago in realtà è stabile però per sicurezza mettiamo sul lago 2 15 0 e ci andiamo a inserire nel foro della foglia della bay leaf vedete inseriamoci qui con le 15 0 queste 15 0 si andranno a posizionare adesso vedrete come così e vedete si uniscono meglio le due parti diciamo di questa che compongono l'orecchino quindi mettiamo poi uscendo dalla foglia altre 2 15 0 e ci inseriamo nella 8 0 e anche nel foro diciamo più alto della daga vedete così andiamo avanti sempre facendo attenzione e qui vedete come si vengono a posizionare le 15 0 in questo modo faccio vedere bene ecco qua quindi andiamo avanti fino ad uscire di nuovo dalla 8 0 che precede la foglia cioè in corrispondenza diciamo ovviamente della foglia ci sistemeremo così mettiamo altri 2 15 0 ecco quindi 2 15 0 e ci andiamo a inserire di nuovo nella bay leaf nella foglia quindi dobbiamo ripetere il passaggio che vi dicevo questo lo faremo solo in corrispondenza della bay leaf della foglia non anche delle daghe perché altrimenti sarebbe superfluo io continuo perché mentre facciamo questo passaggio andiamo anche a fare la prima parte del cappietto io continuo a fare vedete questo passaggio con le 2 15 che vedete qua perché adesso siccome ci ritroviamo davanti alla gem duo approfittiamo per fare ripeto la prima parte del cappietto qui adesso il filo si è un po' arricciato perdonatemi per cui si impiglia dappertutto diciamo di solito non si arriccia ma tenete presente che io ho disfatto un po' mentre giravo il tutorial ecco di nuovo le 15 che si posizionano vi faccio vedere bene la posizione che ci tratterrà meglio il lavoro adesso nel momento in cui andiamo qui invece in corrispondenza della gem duo dobbiamo mettere sul lago 5 rocaille 11 0 vedete usciamo da questo punto vi faccio vedere meglio usciamo da questo punto visto che ci siamo facciamo questa prima parte di cappietto mettiamo 5 rocaille 11 0 scusate se mi sono se mi ripeto e ci andiamo a inserire nell'altra 11 0 che troviamo dall'altro lato qui praticamente tiriamo il filo usciamo dalla 8 0 e ripetiamo il passaggio delle 2 15 per collegarci alla foglia alla bay leaf ok continuiamo nel momento in cui ritorniamo qui terminiamo il cappietto ecco terminato il giro di collegamento con le 15 come vedete mi trovo ad uscire dalla quarta rocaille che sta sulla gem duo in questo caso io metterò direttamente il perno dell'orecchino perché se invece voi volete mettere un anellino e poi attaccare il perno in questo caso vi dico che dovrete mettere 4 diciamo 11 0 e inserirvi nella rocaille dalla quale state uscendo ma nel verso opposto per poi mettere l'anellino mentre io che ho già il foro in questa posizione diciamo l'anellino del perno in questa posizione inserirò direttamente il perno quindi come faccio devo fare attenzione a trovarmi nella posizione giusta quindi uscendo dal da questa rocaille io metto due rocaille sull'ago inserisco l'ago nell'anellino del perno e quindi mi troverò mi devo accertare di essere in posizione con lo chaton rivolto verso il davanti dell'orecchino inserisco altri due rocaille 11 0 e mi vado a inserire nella rocaille dalla quale stavo uscendo ma dal verso opposto così tirando il filo mi troverò già diciamo bene con il con il perno dell'orecchino ovviamente adesso io ripasso nel cappietto ripasso tutto intorno all'orecchino e ci rivediamo con gli orecchini terminati ecco questi sono gli orecchini live terminati io spero che vi piacciano spero anche che non ci siano altre creazioni con questo nome io ho controllato non mi pare però potrebbe essermi sempre sfuggito qualcosa comunque appunto questi sono gli orecchini vi faccio vedere meglio il retro con il perno che in questo caso aveva l'anellino già orientato in questo modo e quindi più comodo per mantenere compatta diciamo la lavorazione allora se li fate ovviamente potete taggare me e se vi va anche il sito sfera colori visto che i materiali sono prevalentemente del sito sfera colori e quindi ci vediamo alla prossima occasione il più presto possibile ciao a tutti